Correrà da sola alle prossime elezioni comunali di Verbagna la lista del Partito Comunista Italiano per la candidatura di Vladimiro Di Gregorio. La notizia dell'intenzione di smarcarsi da altre liste di sinistra pronte a correre insieme sotto un simbolo civico era già nell'aria. Iedister a Trobaso la scelta è stata ufficializzata. Gli esponenti del PC di Verbagna si freggiano di essere, come scrivono, l'unica lista di sinistra. Non si può certo considerare il PD di sinistra antifascista e antirazzista. Candidato sindaco sarà, come detto, il consigliere comunale uscente Vladimiro Di Gregorio. Nelle prossime settimane saranno promossi incontri alla Casa del Popolo di Trobaso con inizio alle 21 su diversi temi. Il 6 marzo urbanistica ambiente, viabilità e territorio. Il 13 su servizi sociali, sanità, scuola e cultura. Il 20 marzo su lavoro, privatizzazioni, servizi pubblici, bilancio, bilancio partecipato, frontalieri, turismo e commercio.